Prevista per domani l'udienza preliminare davanti al gruppo del Tribunale dei minorenni di Lecce per Luigi Borracino accusato di aver ucciso il 19enne Paolo Stasi in via Occhi Bianchi a Francavilla Fontana. Stasi venne freddato con due colpi di pistola il pomeriggio del 9 novembre 2022. Il muovente sarebbe riconducibile ad un debito pari a 5.000 euro che la vittima avrebbe maturato per il consumo di dosi di droga assieme alla madre, già rinviata a giudizio con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente. La Procura contesta le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi e il difensore dell'imputato, l'avvocato Luigi Campanino, ha chiesto l'ammissione al rito abbreviato, condizionato alla perizia psichiatrica, ritenuto un passaggio necessario per accertare la maturità di discernimento del giovane. Borracino, ristretto in carcere dal 22 maggio dello scorso anno, ha ammesso di aver sparato e ha precisato di non averlo fatto per uccidere. Per la difesa si sarebbe trattato di un fatto gravissimo dettato dall'impeto. Per l'omicidio Stasi, la Procura di Brindisi ha già ottenuto il processo per Christian Candita, 22 anni, contestando sia i futili motivi che la premeditazione. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, partendo dalla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, Candita sarebbe stato alla guida dell'auto usata per raggiungere l'abitazione di Paolo Stasi. Borracino si sarebbe steso sui sedili posteriori e prima di arrivare davanti all'abitazione della 19enne, lui avrebbe chiamato al telefono dicendogli di scendere. Stasi era in pantofole davanti al portone e dopo averlo visto avrebbe fatto fuoco due volte, fatale il proiettile che ha attraversato la schiena del ragazzo.